fino a via le ho detto sono un uomo libero e lei quatta quatta se ne è andata a telefonare a te alla pace col tuo amico t'ha detto certo che siamo amici noi che siamo usciti vivi dalla guerra di Albania e abbiamo superato le intemperie della natura dei tempi moderni ti dobbiamo far mettere sotto i piedi dalle donne no giusto giustissimo siamo giovani per bacco abbiamo delle qualità formiamo una forza insieme se qualcuno ci vuole dividere io lo distruggo giusto giustissimo andiamo a bere un goccetto no 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 ora è tardi ora andiamo a dormire su e non partiamo da zero beh questo è vero io ho molte cose che bollono in pentola anche tu ce l'hai insomma mettiamo insieme le due pentole facciamo una pentola sola veramente ti è rimasta solo la macchina americana ci schiaffiamo pure la macchina americana in pentola e come non ce la schiaffiamo te volevano far tagliare la barba lo sai ma è vero che te frega della barba ti piace la barba si ti entri la barba me la faccio crescere anch'io no basta uno bello bello mi sei amico ma come lo sai alberto parliamo di affari no domani domani parliamo di affari con la vedova domani mandiamo in galera carriano rinaldi e l'onorevole certo certo però domani andiamo dalla vedova chi è la vedova ma come non te l'ho detto è la moglie di un industriale il marito è morto è rimasto con un sacco di soldi materiale da costruzioni una scavatrice e dimmi ero onesto c'è il liquido la vedova c'è moltissimo liquido e se la sappiamo prendere quella entra in società con noi allora andiamo a bere un goccetto di liquido dalla vedova no 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 domani domani adesso andiamo a casa ci schiaffiamo pure la vedova nella pentola ci schiaffiamo tutti dentro nella pentola mia moglie mia cognata lì c'è la mutua mia suocera la terrazza mia moglie c'è il violonceno e la vedova c'è il liquido di chi è la vedova nostra è nostra ci abbiamo una vedova svinassa svinassa e fiaschi del buon svinassa svinassa e fiaschi del buon